Vinitaly 2024 all'interno dello spazio di Enolitec con Massimo Barducci di Italesse per ogni vino il suo calice direi. Beh direi di sì, anche se diventa abbastanza complesso con tutte le varietà che abbiamo noi in Italia e che ci sono nel mondo. Questo proposito comunque Italesse ha fatto da qualche anno attraverso il nostro progetto Senses degli studi molto approfonditi per cercare di dare una nuova logica alla scelta del calice. Vengono fatti da parte dei produttori degli sforzi enormi che iniziano dalla terra alla pianta alla cantina ai metodi di vinificazione per valorizzare quelli che sono poi la complessità, l'intensità, l'eleganza, la morbidezza di ogni vino. Noi attraverso la nostra ricerca proprio su questi parametri abbiamo sviluppato un nostro know-how che partendo poi da una parete più o meno inclinata, da un fondo più o meno piatto, da una bocca più o meno chiusa vanno appunto a valorizzare tutto questo lavoro che viene fatto prima in cantina da parte del produttore e dove il bicchiere diventa imprescindibile, altrimenti rischiamo di perdere 4-5 punti in una valutazione fatta bene, seria, se non scegliamo il bicchiere giusto. Che cos'ha in mano Massimo? Che bicchiere hai? Massimo ha un nostro T-Made 75 e il risultato di quello che per noi è un progetto all'interno del progetto ovvero il progetto T-Made che consiste nel creare calici personalizzati per ogni tipologia di vino e quando dico ogni tipologia di vino intendo dei terroir o dei micro terroir che poi vengono abbinati a determinati sepage in questo caso questo è l'ultimo nato, si chiama T-Made 75 ed è la nostra ultima sfida che ci ha portato a confrontarci con il re dei vini italiani ovvero con il Barolo, è un progetto che abbiamo appena lanciato un paio di mesi fa è un bicchiere leggerissimo, fatto a mano e dove abbiamo giocato un po' e abbiamo lavorato un po' per sottrazione andando a pulire la forma di questa coppa in maniera tale di valorizzare la complessità di questo vino ma di mantenerne la parte fresca, la parte di frutto e di arrivare in bocca con dei tannini molto piacevoli e che non siano troppo pesanti, troppo aggressivi è stato un grande successo e qui al Vini Italy siamo in anteprima, lo presentiamo al mondo intero i produttori possono vedere anche qui da voi a fare qualche esperimento, qualche prova? beh mi fai una domanda che mi trova assolutamente in sintonia perché noi abbiamo lanciato il concept del nostro nuovo stand che si chiama Fill the Wine, Dress Your Wine ovvero vieni con i tuoi video, con i tuoi vini al nostro stand magari anche con i tuoi bicchieri che hai usato fino ad oggi a confrontarti e a vedere come tu li puoi magari assaggiare con dei calici diversi e che magari ti possano anche valorizzare il tuo vino e tutto ciò lo facciamo grazie ad uno stand che è stato strutturato proprio per il testing non come succede sempre dei vini ma per il testing dei bicchieri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti